Poi, per creare la navigazione qua su in alto, la miglior cosa è creare la pagina Perché se create la navigazione prima, dopo vi chiede a che pagina volete associarla Allora, la mia tecnica è creare la pagina e creare il menu da questa pagina Quindi, io qui c'ho il menu setting, gli dico, ok, creami la pagina contact us Description, che serve per i motori di ricerca, non lo so, per avere tutti i tag giusti, non lo so Contact me, if you want contact me, bellissimo Allora, navigazione, lo mettiamo sotto primary links Wait, vuol dire la disposizione, e la voglio su, i numeri positivi, vuol dire che viene dopo I numeri negativi, vuol dire che viene prima Lo metto 3, perché lo voglio dopo, all'ultimo E, comment setting, gli dico, disable, ok, va bene Autore information, che sarà il mio nome Pubblico, pubblico sulla front page, no Submit Ah, e in qua, intanto, fa vedere che finalmente ha caricato So, il ponte, di Jacksonville Si può dirgli anche resize images, no, non lo voglio Ok Però, ormai l'ho fatto, quindi Io posso andarla a editare lì, però voglio farvi vedere Nell'amministrazione part Si va in content management, oppure si va qui Content E vedete le pagine che avete creato, sono tutte pagine Quindi io vado sotto Va bene, la metto sotto picture Quindi vado qui, edit Ok Prossima Schiaccio qui Schiaccio la finestra Seleziono questa immagine Operazione Aggiungi Ok Jacksonville Bridge Posso dirgli dimensione per il border wall space, no Ok, inserita Poi che altro Bulletin point Queste solite cose Facciamo un preview My picture Yeah Nel preview non fa vedere l'immagine Vabbè So che ci sarà Ok Allora Qui adesso ce l'ho About me My picture Conta Schiaccio My picture Ce l'ho Non è venuto Ma perché non è venuto Allora Si può più Pirlo Allora Ah non lo so perché non è venuto E qui L'immagine G L'immagine G Allora Chiuso Riesco a selezionarla Allora Rifacciamo Allora Schiaccio l'immagine Schiaccio quello Trovo la mia immagine Aggiungi Insult Probabilmente perché Enable reach Fammi vedere Come è Si Forse Voi direte Ah ma sto programma è una merda No E perché io non mi ricordo come si fa Senta eh Submit Io lo so perché Lo so perché Adesso però Come si fa a mettere a posto Allora Perché il post è abilitato solo per Non far vedere In reach HTML Cose penso O bisogna andare In Amminister Content Ah content type E lì Azzo Sei lì Input Ah Era filter HTML Questo Anche questo Si può Settare come default Su full HTML Quindi Che Non l'avviamente Eccoci qua Adesso funziona Perché Adesso ve lo faccio vedere Come si Setta Vediamo che funziona Eccoci qua Allora Per andare a settare Quello Voi direte Ah basta andare là Content types Ah content types Ok Quella era una pagina Quindi mettiamo come pagina Faremo lo stesso anche per story Mettiamo edit E qui potete anche dire Lo voglio sempre sulla front page Però in questo caso Non lo voglio Può dire anche Lo voglio sempre Lo voglio sempre Disabilitare Ma possiamo vedere anche Quella Eccoci qua Non lo trovo Dov'è Ma questo tutorial È un tutorial Proprio bello Ma io l'ho fatto Per voi No Così Li faccio Stimolare Il cervello Da qualche parte Stimolo Il cervello Forse Ah ecco Ho capito Perché la pagina Questa pagina Non è che crei Pagini in continuazione No Quindi Quindi questo Non si può settare Secondo me Si può settare La cosa del HTML Solo sui Sulle story Che sarebbero i post Vediamo Se ho ragionissima Non ho ragionissima Dov'è che si settava Lo so che c'è il punto Ma non mi ricordo dove Porca puzzola Niente Va bene Passiamo ad un altro argomento I moduli Li avete visti Le pagine Le avete viste Questo About me L'avete visto Passiamo A un altro argomento Va A